Il vostro esperto nella filtrazione Sogefi vi supporterà nella manutenzione degli elementi filtranti. Per eseguire un servizio professionale di qualità, vi consigliamo di avere gli strumenti appropriati per il lavoro. Individuare e svitare la scatola del filtro aria. Aprire la scatola del filtro aria e rimuovere il tubo dell'aria se necessario. Infine rimuovere il filtro aria motore. Pulire la scatola del filtro aria e il relativo coperchio in modo che il nuovo filtro venga montato in un ambiente pulito. Quando si installa il nuovo filtro, verificare che sia in posizione corretta come riportato sul filtro. Installare il filtro nel suo alloggiamento e chiudere il coperchio della scatola filtro aria. Ricollegare il tubo dell'aria se staccato in precedenza. I filtri usati vanno smaltiti secondo la normativa vigente. Affidati al tuo esperto nella filtrazione e trova tutte le informazioni e i manuali su www.fram-europe.com 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 www.fram-europe.com